Bene ragazzi, questo è una semplice guida per muoversi all'interno del forum di HyperSpin siamo sempre da remoto sul mio pc del Bartop che mi viene comodo fare questi video dimostrativi quindi questo è il forum di HyperSpin all'indirizzo hyperspin-frontend.com Allora, innanzitutto io consiglio di registrarsi perché vengono visualizzati altri forum, altri thread, scusate altri topic che non vengono visualizzati quando non siete registrati o vi accedete come ospite e poi vi consiglio di fare l'abbonamento perché vengono visualizzati anche altri forum quando siete utenti gold o platinum Io l'ho visto stamattina, quindi moltissimi topic non sono attivi alla visualizzazione, i nuovi messaggi attivi sono visualizzati con l'icona classica colorata e invece quelli dove non ci sono nuovi messaggi praticamente abbiamo l'icona grigia Io partirei con l'inizio, praticamente la prima voce che è HyperSpin World Forum è molto semplice intuire che si tratta di una sezione dedicata esclusivamente a diversi linguaggi Esiste un menu generale e dei sottomenu Diciamo che questa non è frequentata come dovrebbe essere perché esiste anche un forum italiano, stranamente perché diciamo i più attivi sono i francesi e i portoghesi e ultimamente è stato aggiunto anche ecco gli spagnoli sono molto attivi veramente molto e molto gli francesi che adesso mi sembrava che esisteva anche il forum in francese eccolo qua, HyperSpin Francais che sono molto attivi hanno addirittura dei sottomenu loro il sottomenu italiano, HyperSpin italiano è veramente poco frequentato ma diciamo che qualcuno ogni tanto posta qualche suggerimento credo ci sia anche qualche utente del forum di Arcade Italia anch'io ogni tanto posto qualcosina però diciamo che dovrebbe essere più utilizzato perché viene monitorato anche da viene monitorato anche da i diciamo i i moderatori ufficiali come THK che quindi si occupano di dare anche una controllata e leggono anche alcuni post in italiano perché alcuni di loro non sono italiani però comunque si sbattono a cercare a cercare di risolvere i problemi anche in altre lingue la gran parte sono spagnoli, inglesi americani comunque tornando al principale avete visto il HyperSpin 4 è possibile anche accedere da questi sottomenu quindi per Spin italiano è possibile accedere di qua e anche questi quindi se lo visualizzate più scuro significa che colorato significa che c'è un è stato recentemente scritto un topic ho aggiunto un thread praticamente continuando ad andare avanti abbiamo HyperSpin Main Forum l'HyperSpin Main Forum non è importante come ci dice il nome non è importantissimo diciamo è un diciamo che si tratta di un di un forum di discussione generale di HyperSpin di domande molto generali alcune molto vecchie per esempio qua si parla di Kiga Fusion Windows 8 M&M ci sono i classici persone che si affacciano per la prima volta a HyperSpin e chiedono per esempio dove sono i temi diciamo che è un forum molto generale non è molto interessante sotto vari aspetti però un'occhiata la si può sempre buttare continuando ad andare avanti io direi di spostarci su forum sul forum sottostante che è praticamente development forum è il forum gestito esclusivamente dagli sviluppatori di HyperSpin e serve per tenere d'occhio eventuali novità che vengono messe eventuali segnalazioni e diciamo che raramente raramente scrivono diciamo che praticamente i post sono veramente vecchi qua ancora c'è questo What's New in 2.0 è vero che da una vita che è lì fermo e praticamente descrive le varie informazioni che dovrebbero le varie future che dovrebbero aggiungere HyperSpin 2.0 HyperSpin status ma diciamo che se nella schermata generale si vede che è attivato è stato scritto un post vale la pena di dargli un'occhiata se no ovviamente si lascia lì ma sarà sempre grigio è veramente pochissimo utilizzato HyperSpin support questo è veramente diciamo non è anche questo fondamentale però è già meglio degli altri diciamo che è un supporto di HyperSpin anche questo è molto generale però rivolto esclusivamente ad HyperSpin diciamo che qui potete trovare richieste richieste dirette ad HyperSpin ossia immagini ROM alla fine vengono postate anche domande molto generali riguardo HyperSpin non è fondamentale e da più che altro da tenere d'occhio da dargli una lettura se capita qualche errore in HyperSpin con qualche con qualche con qualche sistema e quindi prima di postare qualche errore dategli un'occhiata esistono andate di sottomenu che praticamente sono pochi utilizzati veramente pochissimo HyperSpin 1.0 che parla ancora della vecchia versione Bug Report FTP Download e Support che riguarda le tematiche dell'FTP forse il più importante Emulator Setup Setting ossia i settaggi dei vari emulatori ma diciamo per persone che non sono ancora veze a determinati emulatori questo è tipo io non riesco a settare il Commodore non riesco a capire come farlo andare in fullscreen non riesco c'è ho delle domande sul sulle motorie winvice oppure dell'amiga di winuae winuae oppure non lo so di altri emulatori posso postarli tranquillamente qua diciamo che questo è la sezione più importante di questo di questo di questo di questo thread di questa sezione diciamo che la sottosezione più importante qua abbiamo le varie questioni riguardanti gli emulatori finalmente arriviamo a una sezione che ci interessa un po' di più ossia Hypersync Support Hypersync Support Hyperlaunch che è la sezione principale quella che è aggiornata praticamente ogni giorno se non ogni ora viene praticamente utilizzata dalla gran parte Hypersync si tratta del downloader automatico che va a matchare le nostre rom e ci scarica i temi e tutto il necessario dal sito FTP Hypersync è molto utile viene sempre promosso un Emu Movies 25% off code che si tratta di uno sconto del 25% sull'abbonamento Platinum a Emu Movies ma comunque Hypersync ma chiedendo facendo qualche se volete chiedere vi verrà sicuramente dato qualche buono valido anche se questo non è più valido diciamo c'è un mio follow up qua che ho fatto stamattina perché praticamente riguardava le Zinc le artwork del Zinc che ultimamente hanno cambiato sistema di matchaggio praticamente non si non si tratta una volta Hypersync viaggiava sui numeri adesso viaggia di nuovo sui nomi delle rom perché hanno cambiato il modulo però non hanno aggiornato non hanno aggiornato Hypersync quindi io se lancio Hypersync con Zinc mi maccerà niente perché mi trova i numeri invece io ho corretto tutto col nuovo modulo che mi fa mettere i nomi delle rom e quindi lui mi andrà a trovare i nomi sul database di Hypersync ci sono ancora i numeri e quindi io ho fatto un follow up che è già vecchio ma prima o poi lo aggiusteranno oppure me la ricambio tutta mano come la gran parte delle cose fanno niente poi ci sono tutte questioni riguardanti i video questioni riguardanti i Platinum SignUp tutte questioni riguardanti ad Hypersync ossia allo scarico delle delle artwork in automatico Hypersync è il software che è stato realizzato da poco da Bad Boy Bill per per lo scarico appunto in automatico delle di tutti sia dei database in XML che delle artwork che ci sono sull'FTP aggiornati allora andando avanti abbiamo Hyperlaunch Support questo è veramente fondamentale questo è la base perché adesso tutto si basa su Hyperlaunch HQ e qui avremo tutto tutto quello che ci serve nel nodo nel nodo più alto ossia questo qua Hyperlaunch praticamente abbiamo tutte le questioni generali che riguardano Hyperlaunch HQ tutte le questioni che riguardano Hyperlaunch HQ allora qui andranno postate questioni tipo directory questioni da da Newbuy diciamo diciamo se abbiamo un problema con Hyperlaunch HQ molto generale non andiamo a livello di sistema di singolo sistema o tutto ma a livello per esempio qua ha un problema col key mapper che non carica non gli carica problemi a livello di GUI di interfaccia è una cosa molto amatoriale Hyperlaunch HQ quindi ha molti problemi a volte si blocca a volte non carica delle cose che dovrebbe caricare e quindi qua si possono postare dei problemi occhio a quello che postate perché qua vi cazziano molto facilmente perché è un forum molto letto e soprattutto date un'occhiata veramente col ricerca col search in forum questo è il search in forum se entrate dentro una sezione del forum se no potete fare la ricerca generale io vi consiglio sempre search in forum se più o meno avete un problema con Hyperlaunch HQ andate in search in forum e fate la ricerca i sottomenu sono fondamentali annunci gli annunci riguardano qua guai se scrivete perché vi tagliano veramente la testa qua dovete scrivere raramente perché è di VJ che che dà tutti gli annunci riguardanti JIT cosa è successo cosa è successo Hyperlaunch è stato aggiornato è stato aggiornato qua e qua ci sono in teoria dovrebbe essercene solo una pagina lui annuncia e dice le varie modifiche ma magari qualche persona qualche newbo scrive a me non mi funziona come si fa viene cazziato lui magari poi arriva un altro dopo e come si fa viene anche cazziato e poi magari arriva una domanda furba che dice che dice tipo per esempio sono stati aggiornati questi moduli ma questi moduli non comprendono determinate cose qua e là allora lui dirà ok le aggiorno la prossima volta diciamo qua io vi consiglio di non di non di non scrivere ma vi consiglio di guardare veramente questo thread questo thread è fondamentale qua si parla di Hyperlaunch 3 e gli stessi e abbiamo gli stessi identici link che vi ho postato all'interno della mia prima pagina ossia qua abbiamo tutte le variazioni nuove le implementazioni nuove che sono state inserite nel nuovo Hyperlaunch abbiamo i link dove andare a trovare tutto praticamente abbiamo un nuovo sito che adesso vi faccio vedere cliccando su questo link che questo è da salvare anche nei preferiti questa praticamente è la wiki qua avrete tutte le informazioni riguardanti tutti tutte le opzioni di tutte le tabelle di tutto quello che è di tutto 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 di Hyperlaunch avrete il come dove scaricarlo come scaricarlo e dove sistemarlo avrete la sistemazione di JIT tutti i tutorial che a volte mi chiedete di JIT basta seguire semplicemente queste guide qua è scritto praticamente tutto e per quello i tipi si incacchiano relativamente se non vengono e rispediscono a questi link quindi se scrivete di là con una domanda inutile verrete rispediti a questi link tranquillamente senza battere ciglio volete capire come si installa una clean installation un update che non esiste l'update perché comunque è tutto un sistema nuovo però se voi avete il vecchio sistema e volete fare un minimo di update potete cliccare qua sopra folder structure questo mi chiedete spesso come la folia qua è spiegato veramente bene solo che in inglese ma secondo me è capibile da tutti perché fa largo uso di immagini e queste cose qua quindi è veramente semplice io vi consiglio adesso sto visualizzando una risoluzione molto bassa per quello mi appare molto grande abbiamo anche i moduli quindi abbiamo i troubleshooting abbiamo hyperpause cosa serve abbiamo hyperlounge hq come funziona hyperlounge hq praticamente abbiamo hyperlounge hq come funziona tutti i tutorial e tutto niente di video però tutto di immagini qua abbiamo tutto il funzionamento di hyperpause che vi dicevo nell'altro video che è simile a xbmc hardware basta andare e leggere 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 volete farvi tantissime idee su tutto il sistema basta leggere questa wiki che si trova però io non mi dilungo su questa perché è esula dal forum però è un link fondamentale questo dovete salvarvelo nei preferiti e poi abbiamo l'implementazione di JIT che vi rimanda a quel link là comunque questo è fondamentale ossia è fondamentale la pagina la pagina di questo di questa sezione la prima hyperlounge hq your favorite frontend comprehension altre cose da dire qua non ce ne sono qua ci sono solo gli aggiornamenti a parte questa pagina da leggere questo è da tenere sempre d'occhio ogni aggiornamento bisogna dargli un'occhiata e soprattutto vedere che tipi di aggiornamenti sono stati fatti magari c'è l'ultimo problema che noi avevamo è stato risolto e lo troviamo sotto announcement moduli discussione qua abbiamo le discussioni sui moduli questo è molto fondamentale è fondamentale perché abbiamo le discussioni sui moduli ossia non riesco a lanciare un modulo un gioco di quel modulo non mi parte un modulo non mi va in full screen eppure io l'ho settato ho un errore con determinati giochi questo è già un po' più generale però lui l'ha messa all'interno del modulo perché si vede che va a livello di modulo questo errore tutti i problemi che abbiamo diciamo suggerimenti e tutto vanno a finire qua ossia se noi nel log vediamo che c'è un errore all'interno del modulo qualsiasi tipo possiamo postarlo qua andiamo nella sezione corretta ossia andiamo a farci un giro prima se un problema su fusion modulo andiamo a cliccare su fusion e andiamo a leggere come tutte le sacrosante la regola base per postare su un forum non andiamo a postare senza leggere niente se no verremo adeguatamente cazziati tutte le questioni riguardo i moduli vanno a finire in questa sottosezione qui abbiamo sezioni specifiche quindi occhio a cosa il vostro errore oppure a cosa riguarda la vostra domanda perché per esempio se avete domande riguardo a hyperpause tipo per esempio voglio i manuali di hyperpause non so di aggiungerli ma attenti perché questa domanda che ho fatto adesso è ancora diversa qua riguarda gli errori gli errori di hyperpause tipo hyperpause freezing questa è una domanda corretta mi si frizza e vabbè può darsi che sia un problema tuo può darsi che non sia un problema loro problema con hyperpause con un determinato emulatore o un problema a uscire da hyperpause qua abbiamo i problemi riguardo a quando si entra nel sottomenu di hyperpause qui abbiamo invece tutte le discussioni riguardo hyperlaunch HQ ossia la nostra GUI qui vengono vengono sia annunciati gli ultimi update di hyperlaunch ossia qui si va molto nel dettaglio di hyperlaunch qui proprio e soprattutto qua si fanno domande riguardo a problemi tipo per esempio non riesco a inserire i tasti cliccando su un pulsante di hyperlaunch HQ non riesco a inserire nel game mapping oppure non ho dei problemi con xpader vediamo qua game mapper eccetera oppure ho dei problemi all'avvio di hyperlaunch HQ non viene trovato addirittura qua dice quando lancio il mame comunque sono problemi relativi a hyperlaunch HQ io non ho postato moltissimo qua sopra anche perché di errori se l'installazione è corretta di errori non ne vengono fuori tantissimi io questi forum qua li guardo sempre ogni volta che c'è una notifica perché magari a qualcuno molto un po' più esperto capitano degli errori particolari che verranno risolti o che capiteranno a me tra un mese perché non ci gioco moltissimo e quindi non lo utilizzo molto io sono arrivato a un punto che ormai ho sistemato tutto e quindi mi interessano più che altro i media qua abbiamo hyperlaunch media ossia tutte le ultime novità riguardo ai media nuovi ossia i fade ossia controller image bezel media oppure le instruction card che sono uscite da poco qua hanno iniziato a postare tipo io faccio un'immagine le metto qua guardate se van bene sono fighe eccetera il console fade project che è molto utile perché per le console hanno fatto delle immagini di fade particolari ultimamente sono usciti anche i commodore 64 game manual molto utili bisogna anche gli scam manual qualcuno li ha postati io li ho scaricati e ho visto se si adattavano al mio xml imam e bezel questo è molto molto utile per completare la nostra collezione diciamo questo si occupa di tutti i nuovi media che abbiamo visto appunto nella cartella media tipo manual controller queste cose qua hyperlaunch legacy archive è tutto l'archivio del vecchio forum io non lo guardo mai praticamente il vecchio forum che parlava di hyperspin della prima versione della pressione corrente di hyperspin un po' più recente dopo l'aggiornamento e tutte le cose comunque tutto l'archivio del vecchio forum che adesso è stato diviso per hyperlaunch hyperlaunch HQ moduli e tutto è stato inserito qua quindi se volete dare un'occhiata ai vecchi 3 dei vecchi post ossia se usate ancora la vecchia versione e siete affezionati volete dare un'occhiata qua potete postare o leggere qua se ci sono stati errori o cose varie naturalmente è molto poco usata quindi tornando al forum io vedo che ho già fatto sui 24 minuti e non ho detto praticamente niente forse faccio bene a farvi vedere ancora fino ad arrivare ai gold member che questi sono forum riservati ai gold member quindi se voi non siete gold o platinum non potete vederli io direi ancora hyperspin third part application feature request che sono molto sono molto easy e l'unico più importante è hyperspin third part application tre parti praticamente questi sono tutti software che vengono utilizzati per sistemare le rom matchare correttamente l'xml con le rom e mille altre cose i don't spin tool che io ce li ho ma non li uso perché non mi piacciono io vi consiglio di utilizzare praticamente adesso non so se ancora qua ecco questo qua yet another rich hyperspin wrong media manager questo è molto utile non è aggiornatissimo è fatto un po' alla maniera così però è veramente funzionale vi permette di cercare di vedere se avete tutte le rom i video vi permette di immergiarli ultimamente è stato aggiornato quindi mi permette di fare il matching automatico molto utile questi sono in questo forum avrete una visione tutti gli sviluppatori di software esterni che aiutano hyperspin a funzionare hyperlaunch a matchare i migliori di milioni di artwork con le rom eccetera eccetera postano qua le loro invenzioni poi magari a qualcuno piace qualcuno canna nel dimenticatoio a me sinceramente piace moltissimo questo qua vi consiglio di provarlo yet another rich hyperspin rom e media center yet perché ancora ce ne sono una marea qua poi ce ne sono altri alcuni hanno realizzato per esempio te per esempio questo qua steam will creator app io per esempio steam non lo uso però è stato creato un tizio ha creato un'applicazione che mi crea le will direttamente prendendole dal sito della steam oppure noi possiamo creargli lo sfondo e tutto ripeto va molto questo don di hyperspin a me non piace tantissimo ma vedetevela voi questo forum è dedicato esclusivamente a chi sviluppa software terze parti terze parti nel senso che serve a hyperspin per matchare tutte le sue cose hyperspin feature request qua sono le richieste se richieste di vario genere riguarda hyperspin addirittura ho visto una richiesta di un tutorial in spanish questo qua l'ha annunciata qua l'ha annunciato il suo tutorial in questa zona però per esempio se noi vediamo che ci troviamo bene a fare una cosa e non riusciamo a farla e vorremmo questa feature la proviamo a scrivere qua diciamo che è sempre la solita cosa magari noi ce ne accorgiamo adesso però una persona se ne accorta 3-4 mesi fa quindi dategli un'occhiata e vedete in che stato è cioè se la la faranno cioè se è una cosa furva la fanno vi danno subito retta e se ne occupano praticamente subito negli aggiornamenti la troverete poi negli aggiornamenti di Hyperlaunch se si riguarda Hyperlaunch oppure nella sezione adeguata appropriata poi abbiamo HyperSpin cabinet forum niente semplicemente un forum dedicato ai nostri cabinet nel senso io mi realizzo un bar top con dentro HyperSpin ci metto le mie foto qua lo faccio sapere a tutto il mondo tutti sono felici e tutti gli danno un'occhiata e amen ci sono progetti interessanti progetti carini progetti classici progetti incredibili veramente io questo qua non lo guardo mai ma si può anche buttare un occhio e questo qua è l'ultima sezione che guardiamo in questo video soliti video di mezz'ora HyperSpin We Sell Trade Forum anche questo non lo guardo mai e tratta del mercato dei cabinati ossia per esempio qua si vengono venduti bar top sempre nella zona Stati Uniti Inghilterra eccetera addirittura sticker per iCade insomma qualsiasi persona vuole vendere qualcosa ma non vendiamo HyperSpin perché ci sarà un forum un ultimo forum al fondo che vediamo che verranno cazziati e ricercati e pestati a sangue tutti quelli che perseguiti legalmente tutti quelli che vendono HyperSpin in rete su ebay e cose varie qui qui ci occuperemo solo di vendere tutto quello che riguarda in qualche modo HyperSpin ma non solo vediamo anche che vendiamo anche una PS4 qualcuno magari interesserà cab ovunque eccetera collezioni bezel eccetera cose varie io spero di essere stato chiaro fino qua adesso magari se volete approfondire ulteriormente una di queste prime sezioni che abbiamo visto mandatemi pure un messaggio sotto i commenti del video così magari lo vedo se non c'è altro io proseguirei prossimamente nella visione dei Goldmember che sono discretamente interessanti HyperPing che tratta di HyperPing che è un'altra versione di HyperSpin dedicata al Pinball ma esclusivamente per i Pinball quelli da tavolo ossia con il monitor che fa esclusivamente quello quello 16 noni ossia per i progetti HyperSpin fatti col Pinball Database questo è veramente molto fondamentale lo andremo a vedere la prossima volta HyperSpin Project questa è una sezione nuova nata con HyperLaunch che vedremo anche ossia con HyperLaunch con tutti gli artwork di HyperLaunch hanno deciso di dividerli qua e poi abbiamo gli off topic dove verranno perseguitati tutti quelli lì che venderanno HyperSpin o qualsiasi cosa abbia il nome di HyperSpin o HyperLaunch oppure verranno segnalati giochi arcade che possono andarci bene con HyperLaunch io per adesso vi saluto abbiamo fatto di nuovo 31 minuti circa spero di non avermi annoiato a presto ciao ciao